Ecco le due squadre fanno l'ingresso in campo, Virtus Castel Trentano, Ripa 2007, valevole per la nona giornata di andata del campionato giovanissimi, girone unico di Chieti. Quale campo scegli di attaccare? Dai, quello. Ok, perfetto. E voi battete? Eccoci salutano l'arbitro e il signor Salvatore della sezione AIA di Lanciano. Ecco i nostri ragazzi che salutano, vanno alle rispettive panchine. Forza ragazzi, bocca al lupo. Ecco. Ora, bocca al lupo, bocca al lupo, bocca al lupo a tutti. Bocca al lupo, bocca al lupo a tutti. Bocca al lupo, bocca al lupo.